Questo video riguarda i migliori 3 arricciacapelli Remington. Il vincitore della qualità nel nostro arricciacapelli Remington va al Remington Ferro. Keratin Protect 19-28mm Vand il Riccio è tornato di moda. Che siano boccoli stretti o morbide onde naturali non importa, è ora di dire addio ai capelli lisci. Keratin Protect Vand è un nuovo arricciacapelli dal design innovativo la cui forma è stato progettata appositamente per permetterti di sperimentare con il tuo look e creare ricci forti, elastici e dall'aspetto sano. Dotato di un rivestimento in ceramica infusa di keratina e olio di mandorle, potrai prenderti cura dei tuoi ricci anche quando vorrai sperimentare nuovi look, col risultato che i tuoi capelli saranno perfetti ma anche sani. Il ferro conico Keratin Protect crea ricci favolosi ed eleganti grazie al diametro di 19-25mm. La forma permette di avvolgere la ciocca dalla radice alle punte e, grazie allo speciale rivestimento grip, evita che la ciocca scivoli dal ferro, rendendo lo styling facile e veloce. L'impostazione pro più, inoltre, permette di effettuare lo styling ad una temperatura bassa di 185 gradi Celsius, risultando così più salutare, ottenendo in ogni caso ricci bellissimi e duraturi, risultando così perfetto per ogni tipo di capello. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Remington Ferro. La ricciacapelli Perl C9533 sarà il tuo valido alleato nella creazione del riccio perfetto. Ti permette di ottenere le onde morbide e di ricci ampi che stai cercando con risultati professionali. Il riscaldamento rapido permette di raggiungere la temperatura in soli 30S ed il display digitale di scegliere la gradazione del calore da 130-210 gradi Celsius. Il blocco della temperatura evita cambiamenti accidentali, mentre lo spegnimento automatico dopo 60 minuti offre sicurezza nell'utilizzo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nell'arricciacapelli Remington è il Remington Ferro Arricciacapelli. Ferro professionale con rivestimento in perla ferro conico per ricci perfetti rivestimento in ceramica di alta qualità. Maggiore concentrazione di ceramica, 6 volte di più, maggiore scorrimento sui capelli e risultati durevoli display digitale per la regolazione della temperatura da 130 gradi Celsius a 210 gradi Celsius riscaldamento rapido. Pronto all'uso in 30 secondi blocco della temperatura per evitare cambi accidentali. Freddo voltaggio universale spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo cavo girevole e guanto protettivo custodia resistente al calore dimensioni prodotto. 32 cm diametro parte conica 9-25 mm. Dimensione parte conica 16 cm. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento. Coltetico Grazie a tutti.